Siamo in compagnia del direttore dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, il professor Marco Brandizzi. Oggi viene siglato ufficialmente un accordo di collaborazione tra l'Istituto Cinematografico dell'Aquila e l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Che cosa consiste e come si svilupperà nei prossimi mesi questo rapporto di collaborazione? La collaborazione con l'Istituto di Cinematografia dell'Aquila si colloca all'interno del nostro progetto di riavvicinamento della nostra istituzione al territorio. Noi abbiamo già fatto tantissime altre iniziative, pensiamo solo al Salone della Ricostruzione curato dal corso di scenografia. In questo caso l'accordo prevede una collaborazione molto stretta. Nel primo punto ha come riferimento l'esposizione di tutto il materiale che hanno raccolto all'Istituto di Cinematografia. Il corso di scenografia e il corso anche di grafica organizzeranno la struttura scenografica di questa esposizione. In secondo luogo ci saranno una serie di rassegne che metteranno in evidenza la grande collezione che ha l'Istituto di Cinematografia. I lavori realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti verranno donati al Museo delle Arti e dei Misteri del Cinema. Esattamente, la collaborazione prevede anche questo fatto che i ragazzi, gli studenti realizzeranno delle opere che poi saranno donate all'Istituto di Cinematografia che così potrà ampliare la sua collezione. Una collaborazione assolutamente di grandissimo prestigio, quella stipulata oggi tra l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica, che prevede davvero un rapporto di sinergia fruttoso e di grande valenza. Gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti produrranno dei lavori di videografica, video d'arte, incisione, scenografia che verranno donati in via permanente al Museo delle Arti e dei Mestieri del Cinema inaugurato all'Aquila proprio un anno fa, esattamente un anno fa, nel luglio 2014, e che per un anno intero ha ospitato la mostra sulla Grande Guerra nei locali della Biblioteca Provinciale Abbazzano all'Aquila. Quindi in questo senso si rafforza il ruolo anche dell'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica attraverso sinergie e collaborazioni importanti sul territorio.